Buona domenica dalla redazione di Florence Multimedia in studio Damiano Fedeli. Sul A1 ha chiuso per lavori fino al 31 agosto lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata in direzione Bologna in uscita provenendo da Roma. Chiuse le corsie di destra nel tratto Firenze in Pruneta-Scandici. Sulla variante di Valico in direzione Bologna c'è un veicolo fermo in avaria fra Badia e il Bivio La Quercia. Passiamo alla 12 in direzione Livorno, attenzione a materiali dispersi fra Sarzana e Carrara. Infipilì per lavori, possibili disagi fra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in entrambe le direzioni. Veniamo ai treni per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione fra Lucca e Viareggio. Ci sono ritardi fino a 15 minuti, variazioni o cancellazioni. A Firenze è nuova fase dei lavori di Publiacqua in Piazza della Libertà. Da domani sera ulteriori cantieri in Viale Strozi e in Viale Matteotti. Ed è tutto, buon viaggio!